Buonasera e benvenuti al circolo sportivo Vista Aurelia per questa partita tra Steaua 2005 e Borussia FC, volevole per la non aggiornata del campionato di Serie 2 della Lega Calciotto, girone di Roma Nord. Ancora deciso anche se il Moem's Fab è veramente avanti nella conquista della Serie A. Attenzione intanto al tiro, il pallonetto alto sulla traversa, prima grande occasione del match. Attenzione alla Borussia che se ne va in attacco con Bartoli che va alla conclusione col sinistro e arriva un vero e proprio miracolo da parte del portiere. Principale dello Steaua che però ha mandato alto il pallone, punizione battuta e si lotta ancora con i gialloneri che vanno alla conclusione fuori di pochissimo. A sinistra verso Massimo Salustri che prova ad avanzare, arriva il suggerimento verso Bartoli che conclude col sinistro e porta in vantaggio la squadra ospite. 1-0 del Borussia, segna Bartoli, 1-0 al diciottesimo. La difesa delle Borussia che può partire in contropiede, verticalizzazione verso Bartoli che fa la conclusione, doppio rimpallo, poi la palla rimane lì e alla fine viene messa in rete, assist di Bartoli dopo il tiro che pesca un compagno che va a realizzare questo secondo gol del Borussia, raddoppio da parte degli ospiti l'Osteaua costretto a inseguire nella ripresa. A destra appunto Salvatore Salustri che è arrivato al rimorchio e che ha concluso per il 2-0, attenzione alla conclusione, la parola, poi la palla rimane lì, è incredibile intervento del portiere. Il compagno che infatti salta, un avversario scarica sulla destra, attenzione a questo triangolo dell'Osteaua che si chiude con addirittura e la gola da parte del numero 20 che salta a tre uomini in mezzo all'aria e segna, segna a Ghiana, siamo 2-1, cerca di tornare sotto l'Osteaua. Calcio di punizione con Assotro con la battuta, fischia l'arbitro, parte del numero 10, conclusione parata da parte della portiere. Precisissima attenzione, la palla ancora recuperata dai giocatori romeni, arriva il tiro e la gola, due pari dell'Osteaua. Inizio di secondo tempo, ancora Ghiana all'indietro verso Tenea che gira per il numero 11 che fa la conclusione, è un gol bellissimo di Negoita, 3-2, incredibile rimonta dell'Osteaua che in 9 minuti ne fa 3 e si porta in vantaggio. Calcio di punizione parte la Borussia, conclusione, gol dopo la deviazione, segna Patrizio Chiodo e siamo 3 pari, partita incredibile al 14esimo minuto. Parte la Borussia calcio di punizione con Salustri, conclusione, grande parata del portiere. Osteaua per qualche problema, attenzione, contro piede dell'Osteaua, 2-1, palla e mezzo per Ghiana che fallisce clamorosamente davanti alla porta. La difesa dell'Osteaua, arbitro fischia, finisce la battita, 3 pari, sale a 17 punti l'Osteaua, sale a 14 la Borussia, con il Momispab a 7 punti di vantaggio sulla seconda che vede a questo punto la qualificazione diretta.